Previsioni Oroscopo Sagittario dicembre 2018 di Paolo Fox, mese di rivalza, scopri cosa cambia nelle prossime settimane con il grafico dell'astrologo più seguito Il mese di novembre ti ha visto protagonista di una condizione astrologica molto interessante L'ingresso di Giove nel segno zodiacale ha determinato non pochi cambiamenti anche per gli altri segni In generale tutti i segni di fuoco hanno potuto beneficiare di una condizione di forza in più, ma per il sagittario il transito di Giove ha significato l'inizio di un nuovo periodo, di un nuovo percorso di vita caratterizzato da non poche novità Giove infatti non soltanto è entrato nel tuo segno, ma si tratta anche del tuo pianeta governatore Se finora sei stato costretto a confrontarti con limiti ed imposizioni, ora non sarai più disposto ad ascoltare gli altri e nessuno potrà fermarti Il tuo desiderio di libertà si fa sempre più forte.Se per troppo tempo sei stato succube di una situazione monotona e ripetitiva, ora finalmente puoi scegliere l'avventura, la novità Non vuoi più accontentarti, puoi scegliere di fare ciò che ti fa sentire realmente bene Per l'oroscopo sagittario a dicembre 2018 si troverà quindi in una condizione migliore rispetto alle ultime settimane L'ingresso di giove non ha determinato cambiamenti improvvisi e repentini. La tua evoluzione è progressiva e graduale, ed anche in amore non saranno pochi i cambiamenti che con cui dovrai misurarti Non tutti i nati del segno infatti si trovano in una condizione sentimentale facile da gestire C'è chi sta mettendo fine ad una storia, e chi ha deciso di voltare pagina dopo una delusione Ora sei così pieno di te, sei così concentrato sulle tue cose e sul tuo desiderio di rivincita e di novità che non hai più tempo da dedicare alle emozioni negative Lasciarsi scivolare le cose di dosso è più facile. Fidati del tuo intuito, anche chi ti è vicino non potrà che ammirare la tua grande forza e determinazione Oroscopo sagittario dicembre 2018 di Paolo Fox, novità e cambiamenti in arrivo.Come indicato dal grafico mensile di Paolo Fox, l'ultimo mese dell'anno è positivo e di grande recupero A rendere migliore la tua condizione astrologica ci sono diversi pianeti, non soltanto a Giove Inizi il nuovo anno all'insegna dell'ottimismo. Anche dal punto di vista pragmatico, ora puoi darti da fare in più situazioni Non essere però troppo risoluto, avere un atteggiamento flessibile, ed in alcuni casi diplomatico, può rivelarsi particolarmente utile Agire d'astuzia in alcuni casi ti aiuterà a conseguire risultati migliori. Non essere troppo fermo nelle tue decisioni A seconda il momento e valuta di volta in volta quale potrebbe essere la decisione migliore in funzione anche di ciò che stai vivendo L'oroscopo sagittario di dicembre 2018 è quindi positivo anche dal punto di vista sentimentale In amore sei più comprensivo e disponibile, a fatto che chi ti è vicino riesca ad assecondarti senza starti troppo addosso Non è escluso che tu decida anche di fare progetti importanti per il futuro, ma devi essere tu a prendere l'iniziativa, o quantomeno a deciderlo insieme al partner Se quest'ultimo proverà a limitarti o ad avanzare delle pretese, allora otterrà l'effetto contrario Per i singoli colpi di fulmine di dicembre saranno particolarmente intensi e coinvolgenti Aumenterà la tua fortuna negli incontri e frequentare nuovi ambienti, nuovi contesti Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie a tutti